Il presidente del Montenegro, Dzekov Milatovic, è stato ricevuto in udienza privata dal Papa Francesco questa mattina, 7 marzo, presso il Palazzo Apostolico Vaticano. Il colloquio, della durata di circa 30 minuti, si è svolto nella biblioteca del Palazzo Apostolico, seguito da incontri con il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, e Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Durante i colloqui, si è discusso dei solidi rapporti tra la Santa Sede e il Montenegro, evidenziando il positivo contributo della comunità cattolica locale alla Società del Montenegro. Sono state affrontate anche questioni riguardanti le relazioni tra Chiesa e Stato, oltre a temi di attualità come il percorso del Montenegro e degli altri paesi dei Balcani occidentali verso l'integrazione nell'Unione Europea, e i conflitti in corso in Israele, Palestina e Ucraina. Durante lo scambio dei doni, il Papa ha consegnato al Presidente del Montenegro una scultura in bronzo intitolata Il dialogo tra generazioni, insieme ai documenti papali e altri testi significativi. In risposta, il Presidente ha donato al Papa una rappresentazione della Vergine realizzata secondo le tecniche artigianali tipiche del Montenegro. Il Presidente del Montenegro, Dzekov Milatovic, ha accolto con gratitudine i doni offerti dal Papa, sottolineando l'importanza del dialogo intergenerazionale e della collaborazione tra le comunità religiose per promuovere la pace e l'armonia sociale. L'incontro ha rappresentato un'opportunità per rafforzare i legami tra il Montenegro e la Santa Sede, nonché per esplorare possibili strategie per affrontare le sfide globali e regionali in modo collaborativo.